Allora, buonasera. Dunque, io sto scrivendo. Volevo dire, io odio la pubblicità a favore, perché è così banale che chiunque la può fare. Io odio, cioè io amo la pubblicità al contrario. Allora, dovete sapere, la gazzetta del mezzogiorno, diciamo, c'era prima, no? Poi, praticamente, è chiusa. Perché? Perché io lessi sulla gazzetta del mezzogiorno che il fumo fa male. Da quel giorno non ho più comprato la gazzetta del mezzogiorno. Adesso, che ho ripreso a fumare, la gazzetta del mezzogiorno e ci siamo. Ecco perché ha riaperto, con l'H, ha riaperto e quindi possiamo vivere felici e contenti. Noi ci siamo, voi siateci. Ok? Ok? Ah, volevo ricordare, attenzione, ricordatevi, ogni lunedì, ok, sulla gazzetta del mezzogiorno, c'è ciarderie, ciarderie, lo dice la parola stessa, qualsiasi cosa che sia con lo spirito di questo nostro sud. Quindi, sud, sud normali. Sud normali. Grazie.